Grazie Presidente. Ruberò non moltissimi minuti a questo che rappresenta sicuramente un dibattito importante su un testo di legge che, lo dico sin dall'inizio, la Lega sosterrà pienamente. Io ho condiviso le osservazioni e la relazione che è stata fatta dal relatore di maggioranza onorevole Mattiello e credo che questo disegno di legge rappresenti un importantissimo, anzi direi fondamentale tassello nel contrasto e nella lotta alla criminalità organizzata e alle mafie. Non credo che sia e che rappresenti questo disegno di legge sulla modifica del 416 Citer una norma manifesto, anzi credo che rappresenti un disegno di legge importante, un disegno di legge fondamentale rispetto al quale la politica deve procedere nella direzione che sino ad oggi ha manifestato. Anzi io credo che abbiamo perso del tempo questo disegno di legge in una strutturazione ovviamente diversa rispetto a quella che oggi arriva nell'aula della Camera venne presentato durante la campagna elettorale da alcune libere associazioni e sostenuto dalla sottoscrizione di migliaia di firme da parte dei cittadini. Tutte le forze politiche, compresa anche la Lega Nord e compreso anche il sottoscritto, sottoscrissero quel disegno di legge, la necessità in modo particolare di chiarire, di rendere più chiaro, più trasparente, più cristallino il rapporto mafia-politica. Io credo che la necessità e l'urgenza doveva portare ad una più rapida approvazione di questo disegno di legge. La Camera in prima lettura approvò un testo, testo che venne approvato all'unanimità, segno di un lavoro importante, io questo l'ho riconosciuto e continuo a riconoscerlo alla Commissione e al relatore, un voto unanime che ha rappresentato sicuramente un atto di forza importante, un segno di credibilità della politica rispetto ai cittadini e rispetto a quel mondo troppe volte nebuloso nel rapporto tra politica e mafia. Le modifiche che sono state apportate dal Senato sono modifiche importanti. Tra l'altro voglio ricordare che durante il dibattito di questo disegno di legge alla Camera vennero presentati tutta una serie di emendamenti da parte di alcune forze politiche, in modo particolare dai colleghi del Movimento 5 Stelle, per rendere ancora più rigoroso, per rendere ancora più intransigente la modifica di questo reato, emendamenti che la Lega votò. E gran parte di quegli emendamenti sono poi finiti all'interno delle modifiche che sono state votate dal Senato. Ed è questo il motivo per cui la Lega convintamente, senza tentennamenti, senza cedimenti, voterà favorevolmente al disegno di legge, così come presentato qua alla Camera, proprio perché crediamo che sia necessario, che sia doveroso apportare una modifica tale utile per poter togliere quel limbo di grigiore che vi può essere nel rapporto tra politica e mafia. Anzi, noi crediamo che questo sia il primo, se non l'unico, disegno di legge che in questa legislatura in materia di giustizia viene approvato. Segno che quando vengono presentate delle proposte di legge importanti, utili, che vanno nella direzione giusta, anche chi sta all'opposizione, chi contesta duramente l'operato di questo Governo dà il proprio contributo serio e costruttivo per approvare un disegno di legge rispetto al quale, se non venisse approvato, io credo che la credibilità stessa della politica, la credibilità stessa di tutti coloro i quali oggi siedono in quest'Aula verrebbe meno rispetto alla cittadinanza. Quindi, se perso del tempo, questo tempo deve essere assolutamente recuperato ed è per questo che io credo che questa possa essere realmente una settimana importante e si possa scrivere una pagina bella, utile e necessaria per il rapporto tra la politica e la cittadinanza nel nostro Paese. Le modifiche che sono state apportate sono state citate durante gli interventi che mi hanno preceduto, è stata anticipata la soglia di punibilità. Sono state riportate le sanzioni e le pene, così come previste dal 416 bis, quindi da 4 a 10 anni, sono stati portati da 7 a 12 anni, proprio per rendere più rigoroso, più incisiva la sanzione rispetto ad un rapporto mafia-politica che anche le cronache quotidiane ci raccontano come essere particolarmente persistente. È stata tolta la consapevolezza e, come ha detto chiaramente il collega Ermini, trattasi di reato doloso, quindi la consapevolezza risulta implicita rispetto al reato alla condotta medesima. È stata chiarita con una ulteriore specificazione che l'oggetto dello scambio politico-mafioso non risiede solo nel denaro, ma anche in qualunque altra utilità. Sono state portate tutta una serie di modifiche normative e giuridiche rispetto alle quali probabilmente potrebbero essere portate ulteriori riflessioni, però io credo che se la politica si dedica ulteriormente a riflettere e se la Camera dovesse apportare ulteriori modifiche, il rischio serio è che questo disegno di legge non possa mai trovare applicazione. Quindi rappresenta un tassello importante, un tassello fondamentale, un tassello fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata e alle mafie che deve assolutamente trovare approvazione definitiva in questo ramo del Parlamento. Io credo che la lotta alla criminalità organizzata debba essere un tema che non deve assolutamente dividere, la lotta alla mafia, la lotta alle mafie, la lotta alla criminalità organizzata non ha colore politico e lo dico io in qualità di rappresentante di una forza politica che è da sempre in prima linea nella lotta alla mafia. Io voglio ricordare, lo faccio sempre e credo che sia doveroso farlo non per un sentimento di autocelebrazione, ma perché i dati, i numeri e i fatti hanno dimostrato l'ottimo lavoro svolto dall'ex Ministro dell'Interno Roberto Maroni in tema di lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo dimostrato in quegli anni che la lotta alla criminalità organizzata può essere fatta anche con il concorso e con il sostegno di tutte le forze politiche. Ricordo il piano straordinario contro le mafie, l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata, il codice unico sulle mafie, un importante progetto di legge, un importante disegno di legge, un piano straordinario contro le mafie che venne approvato da questo Parlamento con il concorso di tutte le forze politiche, con l'aiuto e col sostegno di tutte le forze politiche, comprese quelle forze politiche che allora erano opposizione e oggi sono maggioranza. Proprio perché la lotta alla mafia, la lotta alla criminalità organizzata non ha colore politico e quindi ricordando il lavoro importante, i risultati importanti sia in termini di repressione, sia in termini di confischio e di sequestro dei beni operata dall'ex Ministro Roberto Maroni, credo che la lotta alla criminalità organizzata presupponga tre tipi di condizioni, delle norme giuridiche idonee e io credo che oggi si stia esattamente andando in quella direzione, la definizione di questo nuovo reato va esattamente nella direzione di creare gli strumenti giuridici per contrastare la criminalità organizzata, nel rispetto del lavoro di coloro i quali, e mi riferisco in modo particolare agli inquirenti che sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, massimo rispetto nei confronti di coloro i quali sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e anche mettendo le forze dell'ordine nelle condizioni di poter esercitare il contrasto alla criminalità organizzata ed è per questo che io invito il Governo in tempi di spending review a rivedere seriamente i tagli o i paventati tagli in tema di sicurezza, proprio perché senza l'operato, senza il lavoro importante e fondamentale delle forze dell'ordine, senza il combinato disposto delle norme giuridiche, del lavoro della magistratura e del lavoro delle forze dell'ordine, la lotta alla criminalità organizzata rischia di non produrre i risultati che invece dovrebbe e potrebbe produrre. Mi consenta anche, visto la presenza del Vice Ministro Ministro della Giustizia, non abbiamo ancora avuto il piacere di ascoltare dal Neo Ministro della Giustizia quelli che saranno le linee guida, le linee di indirizzo in merito alle sue politiche in materia di giustizia. Crediamo che il tema della lotta alla criminalità organizzata, il tema della lotta alle mafie, debba rivestire necessariamente un posto prioritario nelle linee di indirizzo del Ministro. Sappiamo che ci sono delle commissioni a ciò preposte. Abbiamo letto di un piano importante e predisposto con magistrati che sono in primissima linea, cito il Dottor Gratteri, cito il Dottor Cantone, che probabilmente andrà a ricoprire, come più volte il Presidente Renzi ci ha detto, un ruolo di primo piano nella Commissione anticorruzione. Come sappiamo che c'è un piano, è stato svolto un lavoro importante in tema di lotta alla criminalità organizzata, invitiamo il Ministro, invitiamo il Governo a operare immediatamente. Questo disegno di legge rappresenta un primo tassello importante, un tassello rispetto al quale la politica non può né perdere tempo, né indietreggiare, né dedicare ulteriore tempo a riflessioni rispetto a dei tecnicismi di natura giuridica che probabilmente potrebbero avere un riscontro positivo, ma che rischierebbero di dilatare ulteriormente il dibattito e l'approvazione di un disegno di legge rispetto al quale la cittadinanza, i cittadini, l'opinione pubblica chiede e attende. Questo è un grande esempio di lotta alla criminalità organizzata. È un grande esempio di antimafia, non delle parole, non scritte sui libri, non delle chiacchiere, ma è l'antimafia dei fatti e quando si fa antimafia in questo modo, in modo serio, in modo rigoroso, con norme e con provvedimenti importanti come questo, il contributo, il sostegno da parte della Lega non verrà mai in meno. Ed è il motivo per cui, e concludo, Presidente, non siamo ovviamente in dichiarazione di voto, ma questa è l'occasione per poter ribadire che il sostegno della Lega a questo disegno di legge sarà assoluto senza alcuni condizionamenti, senza alcuni tentennamenti. Grazie.